Ciao bimbi, questa sera è Daniela, insieme ai suoi due bimbi, che ci regala una storia molto famosissima. Si intitola Il principe felice, la conoscerete, di Oscar Wilde, che è un grande scrittore dell'Ottocento, quasi Novecento. La raccontiamo in due serate, perché è un po' lunghetta, già così è un po' sintetizzata, e molto bella, ce la godiamo in due serie diverse. La statua del principe felice dominava la città. Era tutta rivestita di sottili lamine d'oro, per occhi aveva due zaffiri, e un grosso rubino splendeva sull'elsa della sua spada. Una notte arrivò in città una rondine. Le sue compagne da sei settimane erano partite per l'Egitto, ma lei si era tardata e ora doveva volare via, prima che arrivasse il freddo. Vide la statua in cima alla colonna e decise di passare lì la notte. Stava per addormentarsi tra i piedi della statua, quando le cadde addosso una grossa goccia d'acqua. L'uccellino alzò lo sguardo e vide che gli occhi del principe erano gonfi di lacrime, che gli rigavano il viso e rotolavano per terra. «Perché piangi?» chiese la rondine con affetto. «Perché da quassù vedo tutte le miserie e le tristezze della città», rispose la statua. «Anche se il mio cuore è di piombo, piango di dolore». «Cosa vedi che ti rende così triste?» chiese uccellino. «In un vicoletto c'è una povera casa. Una delle finestre è aperta e vedo una donna seduta al tavolo. È povera e affamata. In un angolo della stanza il suo bambino è a letto malato. Ha la febbre alta, vorrebbe delle arance, ma sua madre ha soltanto dell'acqua da dargli. «Rondinella, le porteresti il rubino della mia spada? Lo venderà. Comprerà del cibo. I miei piedi sono bloccati qui, non posso muovermi». La rondine doveva partire per il sud, ma volle accontentare il principe. Staccò con il becco la gemma e la portò alla povera donna. Poi tornò dal principe e gli raccontò quel che aveva fatto. «È strano!» notò. «Sento un gran calore, malgrado il freddo». «È perché hai compiuto una buona azione», disse la statua. La rondinella ci pensò su e si addormentò. Pensare le faceva sempre venire sonno. Quando sorse il sole la rondine gridò al principe «Ti serve niente per l'Egitto! Sta per partire!» Ma il principe la supplicò di rimanere ancora per una notte. Rondine cara, laggiù in periferia vedo un giovane in una cameretta. È chino su una scrivania in gombra di carte. Deve finire assolutamente il suo libro, ma ha troppo freddo per scrivere. E anche fame. Ti prego, prendi uno dei miei occhi. Portaglielo. Lo venderà. E con il ricavato potrà comprare legna e cibo e così potrà finire il suo lavoro. Così la rondine staccò un occhio del principe e volò alla casa dello scrittore. L'indomani la rondine disse addio al principe. È inverno e fra breve cadrà la neve. Devo lasciarti, ma non ti dimenticherò mai. Nella piazza qua sotto, disse il principe felice. C'è una piccola fiammiferaia. Le sono caduti tutti i fiammiferi nel rigagnolo. Si sono bagnati. Ora più nessuno gliele comprerà. Suo padre, se stasera non porta a casa qualche spicciolo, la picchierà duramente. La piccola piange disperata. Stacca l'altro occhio. Daglielo. Così suo padre non la picchierà. Ma così rimarrai cieco. Fa come ti dico, disse il principe. L'uccellino ubbidì e sfrecciò via portando nel becco lo zaffiro meraviglioso. Sfiorò la bambina e le fece scivolare in mano la pietra preziosa. Poi tornò dal principe e gli disse, ora che sei cieco, resterò sempre con te. E si addormentò ai suoi piedi. Questa è la prima parte della storia del principe felice. Domani sera la seconda parte. Sapete bimbi, questa immagine del principe felice, la statua preziosa, carica d'oro e di gemme preziose, così ricca e così generosa, è una bella immagine per raccontare chi è Dio, no? Dio è molto ricco e molto generoso e l'unico suo impegno è di dare sollievo, forza, calore, nutrimento, creatività ai suoi figli. Dall'alto, o forse dal basso dalle dici o da ogni parte del mondo, il cuore di Dio sente, gli occhi di Dio in qualche modo vedono i suoi figli che faticano, che cercano, che vogliono scrivere il loro romanzo come lo scrittore, che cercano di vendere i loro fiammiferi come la piccola fiammiferaia, accompagna il travaglio delle mamme che vedono i loro bimbi che non stanno bene. Insomma, Dio è impegnato a far sorgere vita, a dare ristoro, forza, a dare coraggio e creatività a ognuno di noi. Dio è continuamente impegnato in questo. Siccome la vita è dura, qualche volta è difficile trovare creatività, vigore, forza. Qualche volta noi diventiamo deboli, ci ammaliamo, perché succede, ma Dio è continuamente impegnato a far sì che in tutto questo noi diventiamo più profondi, più grati, più aperti alla vita, più generosi, più contenti, più fiduciosi anche, che la vita, anche quando è dura, è tanto bella, è tanto profonda, è tanto grande. Ecco, Dio è come il principe felice e manda i suoi angeli, se vogliamo dire così, a portare forza e nutrimento a chi sta facendo fatica. Chiediamo, chissà, che anche noi siamo di questi angeli, di quelli che si avvicinano a coloro che fanno fatica, alla piccola fiammiferaia disperata, al giovane infreddolito che non può finire il suo lavoro, al bimbo malato e la sua mamma travagliata, chiediamo di essere un po' anche noi, questi angeli che il principe felice sguinzaglia per il mondo per portare il suo aiuto. Chiediamo questo dono e intanto ci consegniamo al riposo. Buonanotte.